La ricerca di un albergo Covid condotta dall'ASL Toscana Sud-Est ha prodotto finalmente un primo risultato nella provincia di Arezzo, pare in Val Tiberina. È stato quindi individuato un albergo con 21 camere disponibili e che già da oggi sono utilizzabili. L'albergo sanitario è rivolto ad asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio-abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento. All'interno dell'ASL ci sono quindi adesso, oltre alla nuova struttura in provincia di Arezzo, due strutture in provincia di Siena con 21 camere complessive e due in provincia di Grosseto con 87 camere complessive.